come mai non c'è nessuno scusi buongiorno buongiorno ma poi siete vera che modi sì sono solo la nuova maestra giulia tedeschi piacere ciccio italia detto poeta ma in questo paese non c'è nessuno sono andato alla marina voglio l'immedico qui a avuto avete visto che bello non manca niente c'è il mare ci sono le montagne e che è il silenzio